Tragedia sfiorata sulla strada, poco prima delle 10 di questa mattina, davanti ai nostri occhi, fa ingresso in Piazza Italia, Pescara, un'auto contromano proveniente dall'imbocco dell'asse attrezzato. Una frazione di secondi che poteva trasformarsi in una serie di incidenti se la fortuna non avesse voluto che in quel momento nessun'auto provenisse dalle due direzioni di convergenza, né dalla rampa a salire dal lungo fiume, né da Piazza Italia. L'auto contromano si accorge solo all'ultimo dell'errore e tenta la manovra per riprendere la direzione, procedendo molto lentamente. Accanto a noi solo due passanti che si girano e spaventati osservano la vettura finita contromano. È solo l'ultimo di una serie di casi di automobilisti che imboccano arterie principali contromano. L'auto, proveniente dalla rotatoria della Capitaneria di Porto, probabilmente ha confuso il senso di direzione all'altezza dello spartitraffico che separa il comune di Pescara dal palazzo della provincia, girando a sinistra. Fortunatamente l'errore non ha avuto conseguenze, ma i casi aumentano e spesso purtroppo la conclusione è ben più grave.